Merlim tocca vicino dal portiere lancio profondo a cercare Marcelinho che però non riesce a gestire questo pallone sarà rimessa per la Svezia con Mosberg Smilovic ancora Mosberg con Smilovic che butta il pallone in fallo laterale rimessa per Calderolli gioca vicino da Musome c'è ancora Calderolli finge di andare profondo da Marcelinho va da Merlim Merlim con Marcelinho in contro Merlim lo aspetta lì Diaz è passato Merlim libera il sinistro ancora Merlim la ripropone dentro Jansson l'aveva preso ma c'era calcio d'angolo segnalato precedentemente dall'arbitro eccolo qui Merlim che va in dribbling perché Diaz gli ha concesso l'esterno coprendo l'interno Merlim che può calciare anche di sinistro e si è visto nel primo tempo con il volo di Jansson che ha tolto praticamente il pallone dall'incrocio Marcelinho c'entra ancora Jansson Musumeci suolate pallone per Merlim Calderolli aggredito Calderolli resiste alla prima carica da parte di Casci cambio gioco a cercare sempre il controllo di Marcelinho manca il controllo col destro e allora Jansson davanti buon pallone poi l'appoggio per il destro sotto la traversa di Diaz superazione della Svezia rifinisce Smojlovic chiude Diaz 5 a 3 dire il vero ogni volta che fanno davanti gli svedesi ci fanno gol qui il merito di Jansson che lancia benissimo il pallone grazie grazie